Tenere viva la memoria e permettere a tutti di accedere agli archivi storici in maniera digitale, questo è l'obiettivo del crowdfunding lanciato da Unicop Firenze in collaborazione con il cuore si scioglie. In questo modo il patrimonio dell'Istituto Toscano della Resistenza potrà avere una nuova vita, fruibile a tutti coloro che vorranno non dimenticare ciò che ha portato alla Costituzione dello Stato moderno. Noi in questi giorni, l'anno scorso abbiamo festeggiato 50 anni di Unicop Firenze, siamo andati a rivedere, noi abbiamo un archivio storico molto fornito, siamo andati a rivedere e l'origine della cooperativa sta in quel mondo lì, sta in quel mondo che costituì a suo tempo, dopo guerra, le cooperative, le cazze di popolo, il sindacato, tutta quella parte di mondo valoriale a cui sta a cuore tutto il tema della memoria, di ciò che è stato, di ciò che di tante persone hanno perso la loro vita combattendo per la libertà. La campagna di crowdfunding partirà il prossimo 25 aprile e punta a raccogliere 20.000 euro per valorizzare il patrimonio storico della Resistenza, che conta più di 150 fondi prodotti dai protagonisti della lotta di liberazione e della Resistenza. L'archivio digitale permetterà a chiunque di fare ricerche a distanza, individuare i documenti presenti nell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e farne richiesta anche per e-mail e poi di realizzare un nuovo sito web che consentirà di accedere anche al patrimonio della biblioteca.